Ciao elettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi posso dire buon compleanno al canale? Sì, posso dirlo perché oggi sono due anni che questo canale è in piedi ed è miracolosa questa cosa è qualcosa che voglio festeggiare perché sono stati due anni molto intensi, impegnativi e piene di cose molto belle e quindi innanzitutto ringrazio voi perché siete qua, siete tanti e siete davvero splendidi, ve lo dico sempre perché davvero io sono molto fortunata, lo dico sempre perché sono su Youtube insieme ad una community incredibile che commenta sempre in maniera brillante e interessante tutti i miei video e ragazzi è qualcosa di molto raro per me a mio parere quindi sono molto felice che voi siate qua, vi offrirei a tutti una birra, purtroppo sono troppo povera e troppo distante da tutti voi per farlo e partiamo oggi con il primo video del compleanno del canale e oggi si tratta di libri che parlano di cimiteri visto che ci avviciniamo ad Halloween e voi forse avrete notato che per me è Halloween più o meno tutto il tempo, tutti i giorni, di tutto l'anno perché non approfondire e darvi un po' di consigli random su cose da leggere nel periodo, ispirazioni che vi possono piacere varie ed eventuali insomma, quindi partiamo da questo, non citerò The Graveyard Boy di Neil Gaiman perché ve l'ho già suggerito nel video su Gaiman, quindi andate lì se volete sapere cosa ne penso detto ciò invece vi darò una serie di consigli che spero non siano tutti super banali, già visti eccetera eccetera in modo che possiate trarre qualche ispirazione se anche voi come me avete una passione per il gotico e per gli ambienti un po' cupi partiamo da un grande classico di questo canale perché è uno dei miei autori preferiti ovvero Ray Bradbury e in questo caso io vi suggerisco il cimitero dei folli banale forse, ok? e in questo caso però abbiamo un cimitero piuttosto strano infatti il racconto inizia durante la notte di Halloween del 1954 un giovane sceneggiatore che da poco è stato assunto in una delle più grandi case di produzione hollywoodiane riceve un invito anonimo e si reca negli studios e scopre per caso nascosto dietro un tramezzo, un separè un vero e proprio cimitero il nostro narratore che è uno sceneggiatore davvero molto dotato e molto brillante risulta però molto esitante, trema quasi, molto esitante mentre riceve questa nota e mentre fuori il rintocco della mezzanotte suona quasi tuonante in questo cimitero quasi della porta accanto e si ritroverà davanti qualcosa di davvero molto sconvolgente che non aveva previsto scoprirà infatti un luogo davvero fitto di segreti che lo attirerà in un vortice di intrighi e misteri un mondo sia di meraviglia che di orrore attraversato da un sacco di personaggi eccentrici e famosi allora perché ve lo suggerisco al di là del fatto che aveva la parola cimitero nel titolo perché Bradbury è il capo del mondo a fare due cose il primo è a creare personaggi estremamente memorabili infatti non sono mai piatti, non sono mai banali quelli che ci propone e quindi solo per quello andrebbe amato ma in più è molto bravo anche a fare un'altra cosa ovvero a creare dei dialoghi e in questo è molto bravo perché riesce a rendere una realisticità e una diversificazione molto forte a tutti i personaggi che popolano i suoi mondi diciamo che forse il cimitero dei folli non è la sua opera più memorabile ma ha comunque un sacco di spunti interessanti c'è tantissima nostalgia per il mondo del cinema soprattutto tanta affascinazione per il mondo hollywoodiano forse ormai decaduto, finito infatti qua poi noi incontriamo magnati del cinema registri eccentrici che girano con il monocolo una star del cinema ormai in pensione che gira completamente nuda per le strade di Venice un montatore del cinema forse un po' inquietante che passa le sue notti e rinchiuso dentro queste aule completamente cosparse di pezzi di pellicola in ogni angolo il truccatore di Lenin e quindi anche della sua Salma i fan più fanatici, un attore che ha interpretato per così tanto tempo Gesù Cristo che ormai quando si vuole rilassare sale sulla croce per vedere il panorama assistiamo a legioni romane intere che attraversano il set senza preavviso e uno studio pieno di bestie, di mostri e di dinosauri e di creature insomma la domanda che ci perseguita fino alla fine è cos'è successo in questo cimitero? e quindi stavo a scoprirlo durante la lettura molto molto affascinante con questo sapore retro ma anche se vi piace il cinema e siete affascinati dal cinema secondo me questa è una lettura quasi doverosa e vabbè Bradbury ha sempre un posto d'onore nel mio cuore quindi io ve lo consiglierò per sempre quindi insomma leggete assolutamente il cimitero dei folli vado con un titolo che forse è un po' strano suggerito sul mio canale ma secondo me risulta molto affascinante soprattutto se avete la passione per la storia questo è un qualcosa da non dimenticare probabilmente se no vi risulterà un pochetto pesante ma prima di tarparmi le ali parliamo del cimitero di Prada di Prada? il cimitero di Prada sarebbe molto figo vabbè il cimitero di Praga di Umberto Eco questo libro è ambientato nell'Europa del XIX secolo ed esplora le cospirazioni che stanno dietro praticamente a un sacco di guerre, conflitti che invece che essere l'opera di gruppi di persone sono in realtà forse il frutto più nefasto degli affari di un singolo uomo questo uomo infatti è Simone Simonini è un assassino, un agente dello spionaggio ma soprattutto è l'uomo che può fornire tutte le prove che alcune guerre sono state combattute unicamente per la sete di potere infatti nel cimitero di Praga noi troviamo Simonini che sarà un vero e proprio testimone ma anche un agente e artefice di vari avvenimenti storici del XIX secolo dalla carboneria all'unità d'Italia passando per la spedizione dei Mille dall'impero di Napoleone III all'affare di Dreyfus passando addirittura anche per l'esperienza della comune di Parigi infatti noi incontriamo una serie di personaggi e assistiamo a una serie di fatti storici veramente esistiti ripercorriamo infatti la sua vita fin da quando era un giovane apprendista e scopriamo che nel corso del tempo Simone è diventato proprio quel tipo di gentiluomo che i governi assoldano e di cui i governi hanno molto bisogno quando c'è da fare il lavoro sporco perché è sempre utile ed è abbastanza avido da non farsi degli scrupoli e di non preoccuparsi delle conseguenze delle proprie azioni ruba sia ai suoi dattori di lavoro che ai suoi agenti quindi fondamentalmente ruba a chiunque non si mette problemi sia da una fazione che dall'altra nel dubbio solo per guadagnare più denaro possibile per se stesso il cemiterio di Praga è un'indagine molto articolata nel corso di una serie di vicende storiche che indaga sulle radici più profonde dell'antisemitismo e ciò che ha portato effettivamente a quello che è successo durante la seconda guerra mondiale poi riesce a creare un vero e proprio mondo molto interessante che ruota attorno a un anti-eroe sprezzante e molto cattivo molto egoista probabilmente il peggiore tra tutti gli uomini che ci mostra così tanto di sé che alla fine è vero che è cattivo però alla fine diventiamo dei suoi fan cioè lo facciamo di nascosto però comunque diventiamolo dei suoi fan adesso balzo su un mega classico di cui sicuramente tutti avete almeno un'immagine mentale ovvero la leggenda di Sleepy Hollow di Washington Irving il racconto è sicuramente familiare a moltissimi di voi magari anche se non l'avete mai letto ma sicuramente avete visto il film oppure più di recente anche la serie che si discosta un po' ma comunque dà degli spunti interessanti insomma sicuramente fa parte del vostro immaginario la sua prima pubblicazione risale al 1820 la storia si svolge verso la fine del 1700 nel 1787 per la precisione nella colonia olandese di Tarry Town presso una valle molto isolata che si chiama Sleepy Hollow appunto che vuol dire valle addormentata è una storia che fondamentalmente tratta di un triangolo amoroso quello tra il maestro di scuola girovago Icabot Crane la bellissima e giovane Katrina Fantassel figlia di Balthus Fantassel e un uomo molto importante all'interno della comunità ovvero Brom Van Brunt che prende il soprannome però di Brom Bones in quanto uomo estremamente suggestionabile Icabot Crane crede a tutte le storie di fantasmi e alle storie di stregoneria che ha ascoltato e letto e diciamo che è un personaggio molto meno limpido rispetto a quello che abbiamo conosciuto nel film perché in fondo è un po' un mercenario in fondo vuole sposare Katrina perché redditerà una somma spropositata di denaro e tutti i terreni del padre nella storia di Icabot e di Katrina e di Van Brunt si inserisce quella del cavaliere senza testa il fantasma di un cavaliere dell'Asia che perse la testa per un colpo di cannone durante una battaglia che non ha proprio un vero nome durante la guerra di indipendenza americana il cavaliere cavalca tutta la notte alla ricerca di una testa proprio nei pressi della chiesa della valle di Sleepy Hollow e questa è una storia che scuote profondamente Icabot infatti proprio una sera mentre Icabot Crane sta tornando a casa da una festa che si è tenuta a casa di Katrina viene improvvisamente spaventato proprio dal cavaliere senza testa questo fantasma ovviamente lo segue e gli lancia a un certo punto un oggetto tondo che Icabot associa subito alla propria testa ma al mattino quando arrivano i soccorritori trovano solamente il cappello di Icabot Crane e una zucca che probabilmente era la testa del cavaliere ciò che era stato lanciato ad Icabot insomma è da lì però Icabot Crane non fa mai più ritorno a Sleepy Hollow è sparita e nessuno sa che fine ha fatto e niente info dump a caso che ho scoperto mentre facevo ricerca per questo video la prima edizione italiana di Sleepy Hollow della leggenda di Sleepy Hollow è stata tradotta nel 1942 da Elio Vittorini ne parliamo poi di Elio Vittorini forse comunque non so è una cosa che mi è saltata all'occhio perché ho studiato diverse opere di Vittorini quindi sapevo che lui è un grandissimo traduttore e sono curiosa di leggere anche la versione originale io ho letto la seconda traduzione mentre in tutto ciò il film di Burton va a coprire tantissimi dei buchi di trama e arricchisce moltissimo il mondo di Sleepy Hollow la rende forse una leggenda molto più affascinante e misteriosa con quest'aura vittoriana che a noi piace tanto e visto che parliamo di cimiteri come non citare l'ombra del vento di Carlos Luis Zafon è una mattina del 1945 e il proprietario di un modesto negozio di libri usati di Barcellona conduce il proprio figlio Daniel nel cuore della città vecchia di Barcellona al cimitero dei libri dimenticati un luogo dove tutti i libri che sono stati dimenticati e di cui il tempo ha ormai cancellato il ricordo vengono salvati e sottratti quindi all'oblio qui il padre invita Daniel secondo la tradizione proprio ad adottare un libro per salvarlo e a promettergli di averne cura per tutta la vita la scelta di Daniel ricade proprio sull'ombra del vento dello sconosciuto autore Julian Carax Daniel ne è rapito e lo legge tutto di un fiato ma scoprirà di essere entrato in possesso di un vero e proprio libro maledetto che cambierà del tutto il corso della sua vita che lo introdurrà in un labirinto di misteri ed eventi fuori dalle righe legati proprio alla figura del suo autore e che erano da tempo sepolti nell'anima più oscura della città allora per me l'ombra del vento è proprio un vero e proprio caposaldo della letteratura di ispirazione gotica un romanzo proprio gotico al meglio della sua espressione è atmosferico, è intrigante colpi di scena non sono lì solo per lo shock del momento danno davvero molta profondità alla narrazione espandono moltissimo la storia legando tutti gli elementi in una maniera molto coesa e strutturata e allo stesso tempo ti fanno sempre di più come lettore avvicinare a questo libro e volerlo afferrare, stringere forte ecco un po' la sensazione è quella perché alla fine di questa lettura l'impressione di aver letto qualcosa di davvero molto prezioso e da tenere stretto ti viene proprio voglia di tenerlo stretto e di non finirlo mai e Safona ha anche scritto uno degli antagonisti forse più pericolosi e vili anche cioè fumero e della storia recente sicuramente quindi insomma va letto va assolutamente letto se non l'avete fatto l'ultimo consiglio di oggi non diciamo non va tanto meglio nel senso siamo sempre più nel sottosuolo delle cose molto cupe molto molto cupe qua proprio andiamo oltre ogni limite che potremmo darci e vi sto per parlare della banda del cimitero di Bolenton questa storia ha inizio alla fine del XIV secolo l'intera Europa appare come una landa desolata una terra senza alcuna speranza in cui si aggirano proprio come se fossero spettri perché sono ridotti a degli scheletri veri e propri i sopravvissuti della grandissima catastrofe che è avvenuta negli anni precedenti ovvero la peste in questo regno di fame e paura dove il prossimo non è altro che un nemico da tenere a bada con le armi e con la forza il terrore aumenta sempre di più alimentato proprio da storie di streghe demoni, presenze, creature malvagie che sono sempre pronte a gettarsi sui vivi per consegnare le loro anime alla dannazione questa è l'epoca nella quale si svolgono le inquietanti, grottesche vicende dei fratelli Crosspart Hegel e Manfred cattivi come nessun altro addirittura più del demonio in persona 25 anni, brutti come la fame rozzi come la miseria con le barbe così lunghe da farli sembrare vecchissimi Hegel e Manfred non temono niente nessuno perché sono convinti di godere della protezione della Vergine Maria che se solo sapesse cosa fanno se ne terrebbe molto alla larga e sbarcano a Lunario svaliggiando cimiteri per trovarne piccoli tesori monete, monili gioielli preziosi e non hanno alcuna esitazione ad eliminare i malcapitati che finiscono in mezzo al loro cammino, al loro percorso sono due personaggi davvero senza scrupoli il loro sogno è quello di raggiungere a sud la terra degli infedeli cioè l'Egitto perché pensano di poter svaliggiare le tombe dei grandi faraoni e quindi accumulare ricchezze mai viste diventare ricchissimi allora la storia dei fratelli Crosspart ci porta in questo medioevo molto scuro spaventoso e sicuramente terrorizzato mentre noi seguiamo il loro cammino verso questo sogno di andare al sud assistiamo ad una serie veramente molto continua e di infinita di atrocità commesse dai due fratelli molto crude molto crude e senza un vero e proprio perché il più delle volte anzi quasi sempre e l'unica motivazione che li spinge a fare tutto ciò che fanno è fondamentalmente quella della sopravvivenza senza se e senza ma sprezzante di ogni pericolo e sprezzante di ogni vita proprio come se volessero afferrare tutto ciò che la vita gli ha lasciato e potessero quasi governare la vita degli altri è un romanzo che è in bilico sia un po' con il folklore dei fratelli Grimm e forse tutti i più trucculenti film pulp che abbiamo visto dove nulla è mai scontato anzi semmai viene continuamente dissacrata ogni certezza che a un certo punto crediamo di avere sulla loro storia o sulle allusioni che ci hanno fatto durante la narrazione che potrebbero sicuramente fare riferimento a fiabe o favole che già conosciamo è un viaggio molto scuro prepotente dove la violenza abbonda e dove bisogna avere sicuramente lo stomaco forte ve lo dico perché secondo me è un libro molto figo perché è molto fuori dalle righe ma potrebbe davvero urtare la sensibilità di moltissime persone se non amate la violenza gratuita ragazzi qua c'è una gratuità nella violenza e nelle atrocità commesse che non potete capire e soprattutto c'è blasfemia a più non posso quindi se siete sensibili a questi aspetti forse questo non è il romanzo che fa per voi e soprattutto perché alleggia costantemente un'atmosfera cupissima ecco però devo dire che a me è un romanzo che è piaciuto moltissimo perché lo stile è estremamente dissacrante e umoristico perché fondamentalmente nonostante ci sia questa cupezza totale l'autore è come se continuasse a prendere in giro sia i personaggi ma con i personaggi anche noi lettori ed è ciò che secondo me fa funzionare tantissimo questo libro e quindi niente io spero di avervi dato anche con questo un consiglio utile creepy ma utile e quindi niente io spero che i consigli di oggi per questo primo video vi siano piaciuti e insomma fatemi sapere cosa ne pensate se qualcuno di questi romanzi lo avete letto o se ho allungato la vostra TBR è colpa mia e niente io vi ringrazio tantissimo per aver trascorso un po' di tempo insieme a me vi ringrazio nuovamente oggi che è il compleanno del canale davvero so che sembra tutta retorica però davvero grazie 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 mille per essere stati con me in questi due anni oppure per essere arrivati anche più di recente insomma l'importante è rimanere attaccati alla banda e niente io vi ringrazio davvero tantissimo per aver permesso questi due anni di essere super intensi e di aver ascoltato i miei pipponi ragazzi davvero non vi ringrazierò mai abbastanza e niente direi che ci vediamo al prossimo video va bene ciao